Abbiamo approvato il pacchetto Cambiamo Passi, non si tratta di uno slogan ma un pacchetto di misure che vanno ad incidere profondamente sulla vita del Comune e positivamente sulla vita dei nostri cittadini, delle famiglie e delle imprese. Si tratta di un pacchetto di misure sia fiscali che riguardano la riorganizzazione del Comune, dal punto di vista fiscale non meno costi per le famiglie, la mensa scolastica a frutapasto verrà ridotta da 5,50 euro a 4,90 euro, l'IMU sugli immobili dati in comodato uso gratuito ai figli verrà ridotta di due punti, dal 10,6 all'8,6 e anche agevolazione rispetto alla Tari. Per le imprese interveniamo sia sull'IMU per le attività commerciali ed artigianali passando dall'IMU del 2013 al 9,6 al 2014 al 8,6 quindi abbassamento di un punto, Tari ci saranno agevolazioni per alcune attività commerciali e artigianali e la grande novità è che ci sarà l'azzeramento della Tari per i prossimi due anni per le attività commerciali e artigianali che nascono nei nostri paesi. Grazie. Grazie.